Siamo qui in viaggio con DJ Sonny J, DJ Coma, Diano, Menosaggio e Affio, detto la penchia, che è più la penchia. Siamo in diretti in direzione Paola, siamo in Galabria, a Natale è una serata a Paola, domani è Francofonte, niente ragazzi, vi aspettiamo. Un live da panico, un tour da paure ragazzi. Tour non c'è però stasera, c'è Soloiano, Menos, Tour non c'è, Toriano, Senti. Riaffiare l'ingio. Buona musica. Riaffiare l'ingio.